Ciao amici del Club delle Ricette! Scopriamo insieme come preparare le melanzane alla pizzaiola. Per prima cosa laviamo per bene le melanzane e poi tagliamole a fette dello stesso spessore. Grazie per la visione! Grigliamo ora le fette di melanzane su di una piastra fino a quando non saranno ben cotte. In una padella facciamo rosolare uno spicchio d'aglio con un filo di olio d'oliva. Aggiungiamo la passata di pomodoro, saliamo, pepiamo, mettiamo qualche fogliolina di basilico spezzettata e facciamo cuocere per qualche minuto. Uniamo ora le melanzane grigliate, cospargiamole per bene con il sugo di pomodoro e facciamo cuocere per una decina di minuti. Grazie per la visione! Aggiungiamo la mozzarella, il formaggio grattugiato e proseguiamo la cottura per qualche minuto. Grazie per la visione! Decoriamo con qualche fogliolina di basilico fresco Ed ecco pronte le gustosissime melanzane alla pizzaiola! Per tantissime altre ricette ricordati di scaricare gratis la nostra app.